FACE CON FACE FACE Dunque, in questi giorni si è parlato molto di un manifesto che è apparso nelle principali città mi pare del Lazio, comunque in tutta Italia, che associa aborto e femminicidio non entro nell'argomento Quella comunicazione lì è la comunicazione dei furbetti Se tu parli con alcuni esperti, questi che si credono navigati, questi che si credono i professionisti del settore ti dicono sempre questa frase Nel bene o nel male, purché se ne parli Nel bene o nel male, purché se ne parli, un c***o Questa tipologia di scelta comunicativa è appunto una scelta secondo me molto furba Supponente, perché non sei un genio ma sei un provocatore e non porta a nulla A mio avviso sarà sempre la comunicazione sbagliata e tutte le comunicazioni di questo tipo, fateci caso, hanno fatto parlare sì di qualcosa ma in quel momento, uno, due giorni, poi sono spariti comunicatori e campagna promozionale Allora questo chiaramente non è un attacco è una mia antipatia nei confronti di queste persone che cercano di fare delle cose stravolgenti, esagerate e la giustificano con l'importante è che si parli di questa campagna no, perché è una pubblicità pessima per te che sei un comunicatore e per il cliente che non ha sicuramente raggiunto il risultato che avrebbe voluto Comunicare qualcosa ad un cliente che poi resta colpito in maniera negativa da quello che hai detto non è positivo perché associerà quella pubblicità a te per sempre ne sono capitate milioni nella storia della comunicazione di queste tipologie di cose eppure siamo ancora qui con un altro manifesto discutibile appunto che ha fatto parlare tutti i giornali, i social e sicuramente nessuno ha idea di quale sia o pochissimi il nome di quella associazione che sta sostenendo quella campagna lì un metodo pessimo e purtroppo questa frase nel bene o nel male, purché se ne parli è diventata la scusa di questi esperti professionisti che si vogliono atteggiare e far credere a te beh, ma che non lo sai che funziona così il mondo della comunicazione e questo è l'importante è che se ne parli no, secondo me è diventata una scusa stupida per crederci gli Steve Jobs della comunicazione quando in realtà probabilmente forse siete l'ischettino della comunicazione perché quello che viene proposto poi a un cliente lo fa affondare e quindi, video antipatico oggi non fatevi intortare da questa cosa nel bene o nel male purché se ne parli perché poi non se ne parlerà più di voi ovviamente